Vi facciamo vedere qui Vi facciamo vedere qua E benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Come sostituire la scocca della chiave dell'auto Come vedete questo tasto è rotto Andiamo a comprare una nuova scocca della chiave E lo possiamo trovare veramente molto economico Magari anche a 2 euro ragazzi Su Temu, Amazon, Ebay Dove minchia volete comprarlo voi Al posto di andare direttamente su Renault Auto O sulla vostra concessionaria auto Che potrebbe essere Fiat Come Volkswagen o qualsiasi altra marca Ok, come vedete noi apriremo questa scocca Ok, come vediamo c'è anche una vita lì E possiamo andare a sostituire benissimo la scocca Al posto di pagare magari 150 euro sulla nostra concessionaria auto La pagheremo 2 euro E ci facciamo il nostro lavoro noi Allora, vi facciamo vedere qui Vi facciamo vedere qua E' semplicissimo Bastava solo aprire Togliere la batteria La batteria da qua Mettere batteria nuova Qua Se si voleva batteria nuova Qua bastava togliere la scheda Mettere la sull'altra Chiudere il tutto Avvitare la vite E voilà Chiave nuova E funziona Grazie